Il sindaco di Primio non ci sta. Non ci sta a far passare l'idea che il comune di Chieti abbia portato avanti un'amministrazione scellerata. Per dirla tutta, che abbia le casse in deficit come riportato dal PD dopo la bocciatura del collegio dei revisori. E oggi, Slaiz alla mano, mostra tutte le cifre di quattro anni di gestione. Per fortuna le cose non stanno come dicono loro e per fortuna qui abbiamo un'opposizione che fa teatrino, cabaret di bassissimo livello e non riesce a fare quello che invece una buona opposizione dovrebbe fare, cioè il controllo e anche le proposte, se ne fosse mai capace. Certo, abbiamo un bilancio difficile e lo abbiamo difficile per quello che abbiamo ereditato. Questi signori hanno prodotto tanti debiti, tantissimi debiti. In più la crisi che ha colpito il mondo, non soltanto il nostro paese e la nostra città. In più le leggi che continuano a cambiare di giorno in giorno rendono difficoltosa la gestione di un bilancio. Nonostante abbiamo fatto le cose che andavano fatte per la nostra città. La domanda però resta quella. Se le casse del comune non sono in dissesto, come dichiarato in maniera allegorica dal PD che per beffare il sindaco sbandiera mutande in consiglio, cosa c'è di vero nella bocciatura del consuntivo di bilancio? Il PD dice che i revisori dei conti hanno bocciato il consuntivo di bilancio, è vero? Come no. È verissimo, i revisori dei conti non hanno avuto il coraggio di scrivere che l'avevano bocciato, hanno scritto che non potevano dare parere favorevole. Oggi dimostrerò come anche i revisori dei conti sbagliano. Infine le precisazioni. I revisori dei conti hanno tenuto conto del bilancio di previsione effettuato prima delle lungaggini governative. Per inciso, impossibile far pagare la tara ai cittadini se ancora non era stato reso pubblico dal governo centrale, quanto tassare. Ecco perché il comune non ha potuto contare su quelle entrate prima del 31 dicembre. E infine il comune di Chieti è stato capace di mettere da parte, come si dice in gergo, una somma da destinare ai debiti accumulati dalla precedente amministrazione. Perciò, dei quasi 11 milioni accantonati, dopo aver pagato i suoi debiti, il comune di Chieti ha in avanzo ben 710.767,41 euro.